Voglio innanzitutto portarvi il saluto del Governatore Chiodi e di tutta la Giunta regionale abruzzese. Oggi sono qui, è per me un onore, voglio ringraziare il Presidente Flamont per avermi invitato. Sono qui per portare una testimonianza. Il Ministro Brunetta inaugurò Linea Mica il 29 gennaio del 2009, pochi giorni dopo che la Giunta Chiodi, di cui vi faccio parte, si insediò al Governo della Regione Abruzzo, dopo che la precedente Giunta fu decapitiata dalla magistratura. Erano giorni per noi emozionanti, veramente giorni dell'inizio dell'impegno a servizio dei cittadini e sui nostri tavoli arrivò la notizia di Linea Mica, una di quelle notizie che non passano e non osservate. Poi, pochi giorni dopo, perché dopo solo 70 giorni, ci fu il terremoto di cui abbiamo visto delle immagini. Vi posso assicurare che di fronte a un evento così grande in termini di lutti, di distruzione e comunque di disagi per la popolazione l'unico sentimento che si può provare è l'impotenza. E qui si è inserita Linea Mica, posso dire fortunatamente, perché Linea Mica ha rappresentato quello strumento di cerniera tra l'amministrazione, tra lo Stato e i cittadini. Ha rappresentato il rifugio per chi non aveva la tenda, ha rappresentato quella possibilità per i cittadini di chiedere aiuto per tutti quei cittadini anonimi che non vedremo mai in televisione, che non fanno parte di associazioni che permettono di amplificare la richiesta di aiuto. Ha rappresentato veramente uno strumento importante. Io dico che Linea Mica in Abruzzo ha superato la prova, perché il terremoto dell'Abruzzo ha dato a Linea Mica l'opportunità di dimostrare la propria capacità operativa e la propria efficienza a servizio dei cittadini. Ed è stato un servizio fondamentale. Oggi siamo qui a parlare di Linea Mica e della sua evoluzione qualitativa. Innanzitutto è sorprendente come un servizio così importante, ma anche semplice, per i cittadini non sia stato pensato prima. Le cose più necessarie spesso e più semplici, quasi non ci si pone la giusta attenzione. Invece è importante oggi sottolineare come Linea Mica rappresentato, Linea Mica rappresenterà quella linea di credibilità e di affidabilità che in uno Stato moderno e civile vi deve essere tra chi amministra e i cittadini amministrati. Io non vado oltre perché ovviamente non sono qui per fare una relazione, c'è chi meglio di me con altri ruoli e con maggiori informazioni può fare questo. Sono qui semplicemente a dire il mio grazie e il grazie di tutta la regione Abruzzo a Linea Mica, dicendo con Linea Mica chi l'ha voluta, chi l'ha ideata, chi la fa vivere quotidianamente e soprattutto voglio dire a tutti gli operatori di Linea Mica che hanno risposto alle richieste di aiuto dei cittadini abruzzesi di essere orgogliosi per quello che hanno fatto. Concludo dicendo che mai un nome fu più appropriato per un servizio al servizio dei cittadini come Linea Mica lo è stato per la regione Abruzzo. Quindi grazie e buona giornata a tutti.